La presenza di un vortice depressionario posizionato fra Spagna e Francia favorisce l'attivazione di un flusso di era calda di origine africana sulla nostra penisola. A partire da domani, la depressione tenderà a muore verso l'Italia, determinando condizioni di instabilità diffusa fino a giovedì-venerdì. In Toscana, martedì 12 giugno, cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con precipitazione a carattere sparso, più probabili e frequenti al mattino su costa e zone centro-meridionali prossime alla costa, nel pomeriggio sui rilievi del nord-ovest e sulle zone interne centrali e meridionali, venti occidentali deboli sulle zone interne fino a moderati lungo il litorale, mari poco mossi in aumento a mossi nel pomeriggio, temperature massime in calo, cielo da nuvoloso accoperto con probabilità di piogge su tutto il territorio provinciale, a Lucca e nella Piana temperatura minima 14, massima 27 gradi, a Castelnove zone montane minima 11, massima 26, a Viareggio e sul litorale minima 18, massima 23 gradi.